Ero seduto e stavo tranquillamente analizzando delle pratiche tari di nostri assistiti presso l'ufficio tributi del comune di Favara di via Beneficenza Mendola quando a un tratto un corso d'acqua mi è passato sotto i piedi e stava per arrivare in un groviglio di fili elettrici. E' quanto scritto ci è denunciato pubblicamente stamattina dall'avvocato Giuseppe Di Miceli di Consumer Agrigento. Come si può vedere dalle foto inviateci dallo stesso Di Miceli, un rivolo d'acqua piovana è entrata in stanza dei vetusti infissi e ha percorso parte della pavimentazione. La maggiore preoccupazione dell'avvocato Di Miceli è che questo corso d'acqua possa raggiungere i fili elettrici che sono aggrovigliati sul pavimento. Fortunatamente, scrive in una nota Di Miceli alla sindaca, mi sono accorto della situazione e gli impiegati presenti hanno preso alcuni stracci per raccogliere l'acqua ed evitare il peggio. Nella circostanza ho assistito alla telefonata tra lei e la dirigente Chianetta che la notiziava dell'accaduto alla quale lei rispondeva che a giorni avrebbe provveduto. Senza esagerare, dice Di Miceli alla sindaca, le scrivo che a giorni ci può scappare il morto. La invito ad attivarsi immediatamente per l'incolumità pubblica degli utenti e dei lavoratori comunali. Infine, si legge nella nota di Di Miceli, mi chiedo, considerate le precarie condizioni degli uffici e di lavoro degli impiegati e le difficoltà dell'utenza ad avere prestato il servizio richiesto, questo decentramento amministrativo degli uffici lasciando i locali di Piazza Longiustino, a cosa è servito, o meglio, a chi è servito.